La scalaiazione delle concursioni dall'isola Felice di Cuba. Arriviamo tutti da terra. Io provo le parole di Marco e del Presidente Romero-Giovannelli. Giovannelli, cioè gli albergatori, si debbono mettere le mani in tasca. Se aspettiamo che lo fanno gli altri è come abbiamo fatto noi. Vediamo che è un riscontro. Poi se possiamo ricoporare qualcosa, che ben venga. Quello sul web è interessantissimo perché oramai ce l'hanno tutti, lo sappiamo. Quello che sono contrario è la prenotazione online. Noi scopriamo che la famiglia vuole il contatto diretto con l'albergatore. Cioè guardano il sito, guardano il catalogo, si documentano, guardano magari se capita la presentazione del territorio. E poi c'è la telefonata dove la morale è quella, vuole lo sconto. Allora lo sconto, si fa la chiacchierata, vuole sapere alcune informazioni. Poi la finale è quando mi fai, quando non mi fai. E questo purtroppo è importante. La crisi è palpabile e noi ci siamo un po' messi d'accordo tutta l'associazione di non alzare i prezzi. Infatti stiamo fermi da tre anni. Qualcuno ha fatto qualche piccolo aumento. E' una fortuna che il turismo rimane ancora, come hanno detto, l'isola Felice. Perché? Perché i sette giorni si rifanno tutti. Una famiglia che lavora a due persone, che viva al nord, arriva il momento di riposarsi, di uscire fuori dallo stesso e dalla città, specialmente se aiutati dal buon tempo, come è successo l'anno scorso, e scappano fuori e vengono. Quello che è cambiato è una cosa determinante, e noi l'abbiamo fatto, è quello di non fare promozione, cioè di essere pronti, sono d'accordissimo, perché non è detto che un operatore non porta i suoi dati all'associazione per far stambare la preparazione di un catalogo. Quella è una cosa da non accettare. Bisogna coinvolgerli, bisogna stargli dietro, di modo che a ottobre, novembre, i cataloghi già debbono essere pronti. Poi che dire, quello che si nota, cioè la vacanza, come ho detto, fortunatamente se la fanno tutti, quello che si nota è che c'è stato un taglio molto forte sul superfluo. Oggi vediamo che la famiglia qualche svago se l'è tolto, perché? Perché purtroppo la situazione è quella che è, tanta disponibilità non c'è più come una volta. Io sono fiducioso perché purtroppo il momento è quello che è, passerà come è passato tante altre volte. Io non ero nato, anche se ho la mia età, però parlavano della crisi nel 29 in America, che morivano tutti, insomma, era una crisi particolare e poi dopo siamo arrivati a un momento felice. E tanto succederà pure per noi. Solo una cosa. Prego, Scartazzi. Per superare la crisi basterebbe che il governo un giorno faccia una cosa di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, ridurre i giorni di scuola. Se la scuola finisse a fine maggio e cominciasse il primo ottobre come quando andavamo a scuola noi, io, più giovane, quasi uguale, allora si avrebbe la stagione piena, basterebbe questa azione perché noi siamo condizionati dal turismo familiare che è una cosa positivissima, il turismo familiare non lo dobbiamo perdere e manteniamo sempre questa etichetta perché ti permette di lavorare per un periodo lungo, solo il turismo familiare te lo permette di fare. Però dal 15 giugno ai primi settembre siamo bene o male, tutti siamo piuttosto contenti, no? No, quasi le strutture, però prima no. Perché? Perché finisce la scuola, partono tutte le famiglie e vanno per approfittare di giugno che è un mese bellissimo. Basterebbe questo per riempire. Se un giorno succederà non dovremmo invendarci null'altro. Per concludere brevemente vorrei una risposta secca da ciascuno di voi. Esatto, il No School Day. La domanda è, riuscireste mai a preparare cataloghi collettivi per dire lo stesso lavoro che dovrebbe fare il consorzio, farlo voi associazioni di privati? È possibile fare questo in modo da non essere sprovvisti di cataloghi nelle fiere anche a settembre? È determinante. Lui è stato incisivo. Voi mi dovete portare proprio... È assurdo che non portano... Il 15 settembre si chiude la stagione estiva. Il 20 già ci deve essere la prima assemblea di associazioni. Andiamo in bagazza noi. Non andiamo alla fine del mese. Andiamo. E si comincia a lavorare perché è assurdo di dire... Dice facciamo un bel catalogo bellissimo con i colori, eh? E poi magari non è pronto per portarlo sulle fiere, sulle piazze. Noi non arriva il pubblico, arrivi il privato. È chiaro, è importante. Il pubblico non arriverà mai. Non arriverà mai. E questo è un po' difficile... Cioè, si può fare però... È difficile in questo senso. Nel senso, noi il nostro catalogo è cosa c'ha di bello. Che abbiamo due pagine per ogni struttura. Per cui facciamo vedere veramente come è fatto il singolo albergo. E questa verrebbe troppo grande. E quindi si potrebbe fare come quello del Consorzio, ma poi dare una foto così. Non c'ha mai quell'impatto sul potenziale cliente di poter chiamare quella struttura. Se vede di più, è più invogliato, no? Questa è la nostra caratteristica. Però, questo adesso, quindi, le realtà associative sono una risorsa perché permettono, nel loro piccolo, di dare una informazione più trasparente e più visibile. Però, quando... Io prevedo che fra 5-10 anni, quando la tecnologia, l'informatica, sarà ancora più evoluta e ci sarà la possibilità di stampare a casa, a colori, subito un catalogo su internet in due secondi, a quel punto il catalogo a tarcivo forse comincerà a finire. E si potrà fare anche un qualcosa di diverso che permette di colmare questa difficoltà di ingobblare tutto. perché sarà tutto tramite web. Quindi il cartaceo, però credo, da qui ha 5-10 anni. Poi potrebbe cambiare anche il modo di presentare e di fare... In questo momento, la singola associazione, col singolo catalogo, ha una specificità molto forte che è difficile da chiudere per noi operatori. Infatti, è un'idea che l'associazione nostra porterà il prossimo anno. Cioè, fare un catalogo più piccolo, naturalmente verrà dimezzata la spesa. Anche mezza pagina basta per presentare una struttura. Impostata bene, ma sotto la fotografia dell'albergo in grande, cubitale, molto incisivo che si veda, visitateci con il sito della struttura o del territorio. Praticamente oggi il 90% hanno il collegamento internet a casa. Perciò, quello che può vedere poi su internet non lo vedrà mai in un catalogo anche con 20 pagine, perché poi diventa un problema sia sulla veicolazione sui giornali che portarli in giro perché diventa pesante e costoso. Credo che il cartaceo ancora non ne possiamo fare a meno. Credo che il web marketing è importantissimo come contatto, ma dopo il web marketing per una bella percentuale c'è il contatto diretto. Però non mi aspettavo tutta questa grande percentuale di comunque richieste, di contatti che generalmente insomma sento anche nei colleghi. Io credo molto nel futuro, come diceva lui, ho visto dei videocataloghi in giro meravigliosi. Ho visto dei videoclip territoriali fantastici, molto più semplici che fare un sito. E' chiaro che dobbiamo un attimo adeguarci perché comunque è tradizionale ancora per noi avere il cartaceo, ma l'importante è saperli integrare tutti perché comunque c'è sempre un metodo nuovo che nasce e uno tradizionale che rimane, forse un po' diminuisce, ma che comunque è integrativo per l'altro. Dopodiché, secondo noi e secondo me, noi dobbiamo puntare ancora molto di più direttamente come operatori in Europa perché gli enti non sanno scegliere le destinazioni, molte volte fanno scelte singolari. Mentre oggi la vacanza sarà probabilmente ancora certa, non abbiamo ancora grandi dati. Le economie familiari hanno sicuramente più crisi di prima e un altro anno ancora più di quest'anno. Però io penso che oggi la vacanza, soprattutto in territori come i nostri, abbia una valenza anche terapeutica di rilassamento perché la famiglia vive proprio momenti di grandi stress e l'italiano difficilmente rinuncia anche ad una breve vacanza.